Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, io sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovo video Allora, come potete vedere, a parte un po' la grafica buggata, siamo arrivati qui a Fleminia Allora, questa cittadina è importante qui per la pensione a Pokémon Allora, ho un po' allenato la squadra, quindi diciamo che non dico che sta messa bene Però, diciamo che sta meglio di prima Allora, ho catturato un Ralza, ho catturato un Tojibi Che ho scordato di dargli un soprannome Allora, ti ripeto un attimo da parte Allora, però poi ai Vopoli gli darò uno Cioè, nel senso poi appena potrò utilizzare la MNVolo Mi trasferirò ai Vopoli per dargli il suo nome Allora, intanto do sia Psyduck che toggevi alla Tizia Allora, quello che volevo fare Problema con il Wi-Fi? No Ehm Ok Che, per chiudono se sì, realmente se registrano sto pure in live su Twitch Ricordatevi di andarmi a cercare, mi chiamo Master43.1 Così potete venirmi a vedere Allora, dicevo E recupero la squadra Ehm In questo modo posso, essendo quei due Poker dell'ho basso Mentre faccio la parte della storia Mi si Cominciano a livellare un po' Ehm Ok Ok Ok, abbiamo pure il software del Poker Corona Verifica la crescita Che subito Andrò ad attivare Cioè a visualizzare se lo trovo Eccolo qui Come vedete Togepi è già a livello 3 Quindi C'è veramente, veramente Nesso poco a salire di livello Volevo vedere prima un paio di cose Cioè, nel senso Prima di andare alla prossima città Allora Qui dovremmo ottenere Il portabolli Che Diciamo E' carino per Ehm Diciamo per mettere il bolle ai Pokémon Però C'è le Pokéball Però Trovo un po' Un po' strani come Ehm Cioè un po' strani come funzionamento Perché Se si attiva una Pokéball Bisogna per forza Tenerla Diciamo bisogna Prima di disattivare il bolle alla Pokéball Per Per Poter posare quel Pokémon al box Però Quindi Diciamo Non penso di In senso Non penso di Utilizzare il bolle Ma era giusto per ottenere Lo strumento Allora 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 Per Prendere lo strumento lì Devo andare di qua Ok Otteniamo Un pp suo Che potrebbe essere utile Qui c'è Il tipo Della Della relazione Che fanno articoli Sui Pokémon Però Per quello Ne parleremo Quando Avrò completato Il Pokédex Perché In quel caso Avrò Non dico tutte Ma buona parte Dei Pokémon Catturabili E quindi Un pietro fucaio E quindi Il problema Non si pone Per quanto riguarda L'evoluzione In senso Riguarda avere I Pokémon Nella riproduzione Perché In quel caso Una volta completato Il Pokédex Potrò catturare Un ditto E quindi In quel caso Il problema Non si pone Allora Devo vedere Che ho davanti Rainbow Però Direi di mettere davanti Degu E di dare Il Condividi esperienza Oppure Oppure Una grande perla Che potrei Vendere Comunque Posso dare Quindi esperienza A Rainbow Ok Scaccia Bruma Ok Lui non è Un allenatore Nel senso Che io Comunque Vado avanti Nel senso Controlo tutte le stanze Per il semplice motivo Che voglio trovare Appunto Piedra idrica In questo caso Voglio trovare Piedra idrica Però Per il fatto Di trovare Tutti gli strumenti Perché In quelle stanze Ci sono Con le pietre E in alcune ci sono Delle Strumenti Gli strumenti Ok Lotta Vediamo Poi Lama Che Dego Non Cioè Dego Di Rainbow Ancora Non ha la Possibilità Di Mandare Giù Ok A quanto Pare Bronzor Era più difficile Quanto Ricordassi Di buttare Giù Però A quanto Pare Ok Troviamo Una No Che non Catturerò Ma Semplicemente Manderò Giù Ok E ora Posso Attivare Il Super Rebellente Perché È lo Strumento Che Volevo Attivare Dall'inizio Nel senso Volevo Attivare Ma Volevo Prima Catturare Un Un Pokémon Cioè Combattere Un Pokémon Nella Del Del Luogo Ok Pietratuono A quanto Pare Lì Dovrei Trovare Tutti Gli strumenti Si Dovano Trovare Piedre Evolutive Al Vero Perché Ancora Non Sto A Livello Che Mi Serviva Vediamo Ok Uh Mega Assorbimento Si Lo faccio Dimenticare Di Imparare Il posto Di Assorbimento Ottimo Troviamo Sketch Bruma Bruna Bruma Piepito Ok Lastra Mente Allora Invece Per quanto Riguarda La Lastra Del Il senso La torre di Pokémon Quindi Con Scaccia Bruma E Direi Che Aspetta Ok C'è la Goccia Verde Basta Ok Perché L'obiettivo È La Tutte Memoria Però Dovrei Insegnarlo Al momento È Solo Stare Via Che È L'unico Pokémon Che Può Impararlo All'interno Della Mia Squadra E Quindi Non Ho Finché Non Raggiungo Canalicoli Per Gli Serve Per Nel senso Per scordare Un MN Serve Le Elimina Mosse E Solamente Lì Si Trova Le Elimina Mosse Quindi Allora Qua Ho Fatto Tutti Gli Allenatore Fino A Qui Prima Di Cominciare Il Percorso 215 E Quindi Che Andremo A Fare In Maniera Molto Veloce E Ci Manno Subito Bronzor Direi Di Partire Subito Ottimo Con Morso Però Sveglia Ogni Tanto Questi Strumenti Che Si Comprano All'inizio Del Gioco Però Dovrebbero Essere Utili Ok Dei Usare Tranquillamente Mega Assorbimento No Speravo Che Mega Assorbimento Fosse Più Diciamo Più Potente Pure Fu Che Lama Torgo Veramente Veramente Poco Ok Nel K Solo Diciamo Che Ho Intenzione Di Far Evolvere Alliello 30 Se non Sbaglio Impara La Mossa E Morso Rainbow Penso Che Gliela Insegnerò Allora Ok T66 Sarebbe Rivincita Ok Allenatore Ci manca Un Grogank Che Andrò A Buttare Giù Spero Subbino Ok Anche se Rainbow Ci mette Veramente Tanto A salire Il livello Vediamo Lui Quanto tempo Ci metterà A buttarlo Giù Non dico Poco Ma Cioè Due Mosse Ecco Rainbow Il livello 27 Era Ora Dico Ci metto Poco Però Un bel Po' Di Tempo Ce Ce Ne Metto Allora No Non era L'obiettivo Ma Volevo Usare Meglio Assorbimento Per me Ecco Ti pareva Ok Troviamo Troviamo Una Lastra Bugna Allora Spero Comunque Per il momento Sto continuando A tenere Bibare All'interno Della squadra Però Non Più che altro Finché Non otterrò L'ultimo Membro Della squadra Perché Appunto All'epoca Allora Non servirà Più Per ottenere Per ottenere L'ultimo Membro Ce ne vuole Pure Per fare Evolvere Non è Che ci mette Chissà Quanto Poco Però Si fa Ciò Che si può Perché Quello si evolve Per Amicizia Forse Qualcuno Di voi Già L'avrà Capito Chi può Chi può Essere L'ultimo Membro Della squadra Che paura Ci pensa Ancora Devo Decidere Il Soprannome Di quel Membro Ok Super Effetto Cioè Brutto Gruppo Quindi Mi ha permesso Di mandarlo Ma non mi puoi Mandare Quasi Tanti PS Giù E Ti smetti Di usare Individua Allora Strumento Da prendere Assolutamente Allora Seriver Dovrebbe Essere Super Efficace E quindi Mando Sparkle Davante Ok Troviamo Un PS Su Ciao 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 Mariel Ripeto Che Quelli Che Ancora Levo Che Devo Che Non C'è Senza Ancora Pokemon Che Non Ho mai Visto Che Ricordo Che Non L'abbiamo Ancora Viste Le Le Combatto Mentre Quelli Che Ho Già Visto Comunque Può Capitare Comunque Non Ricordo Se qualcuno L'ho Già Visto Oppure No In Quel Caso Non Faccio Combattimento Ho Tenuto Un Undershock Che In Segno Molto Volentieri A Sparkle Al posto Di Full Miss Wardle Dato Che Quella È L'unica Che A parte Scintilla È L'unica Mossa Di Tipo E Nel senso Di tipo Elettro Che Ha Imparato E Salirello 27 Quindi Ok Lotta In Doppio E Comunque Sono Scordato Di Ricaricare No Poi Si è Ricaricato Grazie A Ok Nulla Che Mi ero Scordato Che Controlo Merrill Però Posso Usare Nuovamente Mega Assorbimento Ok Sempre Doppio Attacco Ok No Ah Vi do L'attacco Ok Gregar K Allora Manno Buizzola Io Subiro Con Mega Assorbimento Ok È Il Salto Di Ok Ok Rainbow L28 Allora Questa La vedo Difficile Ok Rainbow K No Non volevo Mandare Lui Ma Vediamo Come va Con questo Vento Toglie Parecchio Ok Sparkle K Quello Che era Messo Peggio Ovvero L'Ego È Quello Che sta Resistendo Di Più Perché Quello Che Letteralmente Salire Resistendo Di Più Ok Quanto Pargo Ottenerebbe I soldi Bacca Kiwi Una Bacca Mango Allora 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 Qui Dovremmo Ottenere Un punto Un pezzo Stella E Più Avanti Dovremmo Ottenere Un altro Strumento Molto Utile Lì Dove Sta La base Sempre Del team Galassia Quella Ufficiale Qui Non ci Dove Stare Vabbè Non ricordavo Male Ok Caramella Rara Era quello Che mi ricordavo Ma ricordavo Pure Che qui Ci dovrebbe Stare Pure Un tizio Però Può Darsi Quando Lo dovremo Esplorare Lo Incontreremo Allora Allora Anzitutto Direi di Curare La squadra Togipi Togipi Arriva Salirello Molto Velocemente Perché Il tempo Che Psyduck È arrivato Salirello Di 5 Livelli Togipi Nel salire Di 11 Più Del Doppio Allora Allora Innanzitutto Volevo Ottenere Un Paio Di Cosa Sì Massaggiatrice Sparco Dal Caso Ok Tembrillo Polvere Diciamo Che Il mio Obiettivo È Sì Vero Ottenere Qualche Strumento Per La Scatola Scicca Perché Ci Tengo A Ottenere Quante Più Cose Possibili All'interno Del No Perché Allora Bisogna Lo capire Oh Allora Dicevo Perché Obiettivo Di Comprimare Quante Pio cose Possibili All'interno Del gioco E Quindi Tra Qui Ci Sta Nella Svago La Casa Con Lalla Dei Fiocchi E Per Andarci Bisogna Tenere Un Certo Numero Di Fiocchi Ok Qui Tropevoli Se Non Sbaglio Il Capo Palestra È Marzia Quindi Tipo Lotta Non So Perché Ma Per Un Momento Hanno Messo Sparcol Davanti Ero Convinto Che Fosse Di Tipo Che Acqua Fosse Oma Il Capo Palestra Quindi Non È Quindi Quello Devo Mettere Davanti Non È Sparcol Ma Volano Che Sarà Il Mi sa Che Sarà Il Primo La Squadra Ad Arrivare Al Livello Trenta Allora Ovviamente Qui All'interno Presa Saranno Quattro I Gli Gli Allen Allori Di Abbattere I Prima Del Capo Palestra Io Andrò A Battere Tutti E Quattro Perché Diciamo È Molto Più Esperienza Rispetto A Prima Allora Ho un attacco Rapido Dubbilo Che Mando Gappo Però Mi fa Stare Lo 29 Quindi Attacco In più Ok Altro Allenatore Ci Mando Sub Più Prima Maggio Poi A me Di Di Questo È Più Semplice Da Battere Ok Rembo Nello 29 E Imparo Morso Ok Quindi Ha Una Mossa In più Un po' Più Dicente Rispetto A Prima Però Condividi Esperienza Io Lascio Ugale Per Un discorso Di Cioè Per Il fatto Che voglio Tutta Lelo 30 In questo Modo Riesco A Dargli In un Modo Più Semplice Allora Stiamo Parlando Quasi Per Il livello 30 Cioè Per tutta La squadra Cioè Quasi Per due Membri La squadra Devo Devo fare Un cavolo Di casino Ogni volta Per Andare A fare Le cose E Che Ho voluto Un Giro Di Un So Cosa Per Andare A Spostare Le cose Avete Capito Sentendo Dire Allora Per 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 Fare Quell'altro Devo fare Tutto Il giro Di qua Perché In questo Modo No Aspetta Posso Scendere Di qua E Andare A portare Questo di qua E rompere Quello su No Ora Per rompere L'ultimo Ah è vero Bastava Questo qui Lo mandassi Più avanti Ok A quanto pare Ce l'abbiamo Fatta Avanti Lo so Quello Questo Quello Non servì Anche Perché Devo Andare Di Di Lato Però No Io Ce la posso Fare Ok Ora Possiamo Combattere Contro Marzia Avendo Volano L'O30 Che Volano L'O30 Menta Non me L'aspettavo Allora Direi posso Mandare Rainbow Con attacco Rapido E Che Mando Che Mando Che Mando Mando Menta Dentro Perché Di tipo Normale Quindi No Quindi Dove Mandare KO Molto Semplicemente E In questo Modo Posso Ridare E Sperare Un po' Di vita A volano Così Abbasso Attacco Allora Mi si è abbassata Pure la velocità Però Io utilizzo Iperpozione Lo so Ho recuperato Ci ho sprecato Buona parte Però Ecco Della Iperpozione Però Può Stare più Pugno Ok Pure Fallito Ok In questo caso Non lo K E Non lo Sostituirò Nel senso Non gli darò Altra vita Cioè Non Ok Devo ammettere Che è molto difficile Abbattere Questo Lugario Allora Voglio provare Con un morso Cosa Non ho potuto fare Ok Ne posso usare Un altro Ok Io me la Voglio rischiare Tutto un volo No Anche se La vedo Difficile Ok Averebamo Abbassato L'attacco Quindi Ok In questo modo Ne posso Revitalizzare Un altro Direi Deku Lo so Sto facendo Tanti giri Di Revitalizzanti Perché Ok Quanto pare Riesco A revitalizzare Non dico Tutta la squadra Ok Perché Sto Continuando A abbassare La L'attacco Di Lugario Utilizzando Cacolo Utilizzando Sempre Ora Ora No Allora Ok Quanto pare Questo Potrebbe Essere L'ultimo Sì Finito Riesco Sì Fili Utilizzanti Vitalizzanti Chi Chi Lo Eh Bella Lo Mando Potrei Provare Deku Ok Vediamo Se Ho Sperato Troppo Ok Abbassato Ancora L'attacco Quindi Vediamo Attacco Rapido Ok Ce l'ho Fatta Ci ho messo Veramente Tanta fatica Per poterlo Per poter Battere Marzia Ok Ora possiamo Utilizzare Volo Metti 60 Assorbi Bugno Una bella Mossa E allo stesso tempo Anche una bella Gatta Da pelare Ok Direi Che Dato che Il mio obiettivo Era Rainbow A livello Senso Era Rainbow A livello 30 E Grazie a condividi Di esperienza Era La raggiunta L'altro Obiettivo Era Per il momento Morso Che per avere Una mossa Differente Direi Innanzitutto Andarmi A curare La squadra E direi Che il nostro Caro Amico Rainbow È pronto Per L'evoluzione Quindi No Ok Sì Guardi Tutte Allora Visto che La Pietra Idrica L'abbiamo Ottenuta E quindi Abbiamo Il nostro Caro Amico Rainbow Sì Vuole imparare La mossa Tipo Acqua Per caso No Però Non ricordo Se Io Ce l'avevo No Non ho Una mossa Tipo Acqua O forse Sì Non lo so Di andare A controllare All'interno Svegliato Zona Di andare A controllare All'interno Del Pokemon Market Innanzitutto Dove Vendere Un po' Di strumenti Attivo E Alcune mosse Che non Servono Semitraia Non serve Quindi Alcune cose Veramente Veramente Sono inutili Ok Pezzo Stella Grande Perla Ok E Repellenti Perché Potendo Comprare I super Repellenti È Inutile Diciamo Acquistarli Ok Qui se non sbaglio Mi danno Strumento Appunto Il Contatore Strutore Diciamo Che non Servirà A una A una Fava Però Allora Di Di Viaggio Ci sta Veramente Nulla C'è Tipo Acqua Allora Diciamo Ok Mosse Che Non Servono Quindi L'unica Cosa Che Posso Acquistare E E qui Super Revellenti Sì Ne Compro Dieci Quindi Posso Prendere I miei Super Revellenti E Venderli Allora Allora Sicuramente No 84 Ma Per il momento Dieci Vitalizzanti Li posso Prendere No Non ne volevo Nove Ma ne volevo Dieci Lo so Costano 12.000 E Dieci Super Pozione Allora Ti Ti Quanti Ne ho Nove Ti Parali Sinodizzanti Ti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.